benvenuti a tutti ci ritroviamo in questo bellissimo contesto finché riusciamo a stare ancora all'aperto con Maurizio Iengo grazie per essere ancora con noi alla ricerca delle felicità terzo passaggio oggi parliamo di un paio di studi che pur partendo sia da tempi luoghi università diverse ci portano allo stesso risultato ed è importante come dicevamo prima di accendere le telecamere perché se più voci convergono forse c'è qualcosa di vero il grand studio è uno studio longitudinale iniziato nel 38 ad Harvard che prende in considerazione una popolazione amplissima per oltre 70 anni fa questionari ogni due anni su stile di vita salute lavoro professioni aspettative qualunque stato sociale qualunque certo economico lavoro e esce che sono le nostre relazioni e quanto siamo felici nelle nostre relazioni ad influenzare la nostra vita per cui le relazioni sono la chiave è vero si guarda questo è interessante no questo studio longitudinale dove tra l'altro è passato di mano in mano a diverse generazioni di ricercatori ora se non erro siamo la quinta generazione di ricercatori che prendevano questo studio e scopre una cosa che volendo uno potrebbe dire scoprire l'acqua calda il fatto che ottime avere delle buone relazioni ci aiuta a essere felici però un conto è dirlo un conto è farlo perché intanto proprio la parola felicità non è una cosa che ti dà la serenità a volte si usano dei termini un po' anacquati no perché a volte non si ha il coraggio di usare questa parola parola felicità no dire e anche di dire di voler ambire a questa cosa no e quindi si tende a un po' usare altri termini invece è importante secondo me dirla anche perché se ci pensi anche che è sfidante no come come termine e che ci riporta al tema no dell'importanza delle relazioni e che queste relazioni sono sono da coltivare sono da da farci la manutenzione quindi non lasciarla andare non pensare che una volta che una relazione si è costruita o instaurata il partito la scintilla allora poi si mantiene da sola no se ci pensi facciamo la manutenzione a tante cose no questo periodo si fa il cambio delle gomme no ci si aggiorna su tante cose della tecnologia però nelle relazioni a volte insomma non si lascia che scorrono viene da sé non viene da sé bisogna coltivare questi questo studio ci ci dice che sono tra tutti gli elementi che possono far parte quindi anche quelli dice sono stato migliore di salute o una posizione sociale e quant'altro ma sono le relazioni la cosa che danno il sapore no quelle che nel medio lungo termine ci permettono di dire sono sono felice ok ci sono gli alti e bassi sono le cose che possono andare andare però nella mia vita sono tendenzialmente felice anche perché le relazioni se ne vogliamo coltivare e credo che anche custodire sia un altro bel verbo da accompagnare le relazioni ci impongono di uscire da noi cioè di fare un passo verso l'altro perché la relazione non vive di vita propria quindi questo è un altro di una ricerca che adesso tu in parte ci illustrerai quella delle famose zone blu dove dice anche che un'altra chiave per essere felice è quello dell'impegno per la collettività dentro la quale si vive il darsi da fare anche per gli altri e anche questo implica un po' uno uscire da sé no certo allora intanto in breve queste zone blu di cui intanto si sente parlare sono delle zone nel mondo in diverse parti del mondo dove c'è una concentrazione anomala nel senso che si parla di almeno dieci volte tanto quello che c'è nella situazione nel mondo normalmente di persone molto longeve quindi che vivono oltre i cent'anni ma che vivono oltre cent'anni in salute ok perché noi siamo in una società che è vero che ha prolungato la vita media si vive di più però tendenzialmente soprattutto nel nostro mondo occidentale si vive di più ma spesso si vive di più con l'ultimo periodo con malattie con non autonomia e quant'altro invece in queste zone del mondo la vita lunga è accompagnata da un ottimo stato di salute no e allora uno dice cosa succede in questi posti del mondo no e succedono alcune cose intanto il più se vogliamo iconico è l'isola di okinawa no di cui si sente ogni tanto anche qualche film eccetera ma una è anche la nostra sardegna ci sono tutta una serie di paesini che hanno questa caratteristica ci sono alcuni elementi uno che fa come dire rima con ciò che abbiamo detto prima è in questi luoghi viene messa la famiglia il tema degli affetti al centro quindi quella è la cosa più importante e fa match con il tema che dicevamo prima delle relazioni ok poi ci sono alcuni aspetti più se vogliamo anche come dire logici c'è uno scarso consumo di tabacco piuttosto che c'è una alimentazione di tipo equilibrato c'è il movimento fisico no quindi tutti questi luoghi c'è non è necessariamente lo sport ma è un muoversi all'interno anche del contesto naturale e poi c'è ciò di cui parlavi tu prima quindi una percezione di essere utili alla società ok una percezione che la mia presenza su questa terra per quei cinque minuti che tutti quanti noi viviamo la mia presenza su questa terra serve che è al servizio di qualcuno di qualcosa di un ideale no e questo penso sia tanto importante perché ci aiuta proprio a non solo sapere ma proprio a sentire che la nostra vita vale la pena di essere vissuta no se ci pensi quando noi non ci saremo più ciò che rimane è ciò che abbiamo dato il poeta che ha una poesia nella testa ma non la scrive quella cosa non rimane che il la persona che non ha detto a suo familiare quanto gli voleva bene quella cosa non rimane non detta e quindi il fatto di potersi spendere sia appunto uno per nella propria famiglia nelle proprie relazioni i propri effetti ma anche al verso qualcuno da cui anche non ho nulla no magari non mi torno nulla non lo faccio perché c'è un corrispettivo lo faccio per il piacere di donare la ricerca ci dice che queste persone vivono non solo felici a lungo no ma anche proprio in pienezza poi ci sono alcuni aspetti anche legati al prendersi del tempo di introspezione non abbiamo parlato varie volte no e quindi può essere un aspetto più di connessione con se stessi che cosa si prova così pensa l'aspetto della meditazione anche della preghiera c'è appunto un aspetto verticale no una spinta verticale sia all'interno quindi l'ascolto ma proprio la spiritualità no quindi una dimensione che è altro da noi che ci porta verso l'altro è quella che ci fa scoprire poi maggiormente noi no che un'altra cosa da cui forse parlando che conta in questi anni emergeva siamo così forse invece lontani noi in questa società occidentale anche perché noi tendiamo proprio a scindere l'anima la mente e il corpo e credo che invece un altro elemento fortemente caratterizzante anche queste popolazioni è che invece si concepiscono come un unicum un intero e quindi viversi come una persona e non sempre un segmento da spendere in varie parti della nostra giornata e della nostra vita faccia la sua parte no certo è un unico con me e in connessione con la natura no col mondo se vogliamo con l'universo questo è importante il fatto di sentire che anche io posso essere strumento di vita in tutti i modi in cui possiamo esprimere questa parola ok quindi dal appunto dal dalla vita quello che può essere il mio piccolo contesto ma anche poi poi allargando questo questo è sicuramente un elemento centrale vi viene da dire però perché soprattutto da noi no torniamo nel nostro mondo occidentale non in queste meravigliose zone blu che ci sono anche nel mondo occidentale ma sono veramente purtroppo ancora molto piccole perché facendo anche un'inchiesta interviste per tante persone molte dichiarano di non essere felici quando oggi abbiamo detto ma alla fine che cosa abbiamo scoperto l'acqua calda le relazioni lo spendersi l'ascoltarsi sembrano cose che quantomeno nel nostro gergo sono così quotidiane ma mi sembra anche che siano tutte cose che chiamano fortemente in causa la nostra responsabilità la nostra partecipazione dobbiamo essere noi a compiere queste cose può essere che a volte la fatica di farle di uscire da noi di prendersi carico di questa responsabilità ci faccia stare fermi fare il passo indietro e poi dire non siamo tanto felici non vogliamo prenderci questo rischio allora da una parte mi viene da dire che il fatto di fare qualcosa di straordinario nel senso di fuori dall'ordinario ci mette in difficoltà non ci blocca ci limita fa sentire diversi come se quella cosa che stiamo facendo magari si pensiamo possa essere bella e utile però gli altri non la fanno quindi a volte questo continua paura del giudizio paura di esporsi paura paura forse di essere felice in un certo in un certo senso no e è più comodo a volte stare in ciò che ho sempre fatto io dico sempre no che le persone che noi definiamo straordinarie in realtà sono persone che fanno cose ordinarie ma ripetutamente fino a rendere queste cose appunto fuori dall'ordinario non c'è nulla di come dire straordinario nel telefonare una volta alla settimana quella persona con il mio affetto che magari lontano possiamo farlo tutti però farlo tutte le settimane per un anno diventa straordinario e crea quel rapporto e fa sì che quel rapporto sia caldo intenso vero vivo anche se a distanza però se ci pensiamo abbiamo solo fatto una telefonata alla settimana quindi se non è una cosa che richiede una particolare dote qualità che nessuno di noi può avere dall'altra parte io penso che un aspetto sia definire quelle che sono le proprie priorità no a volte sembra che tutto sia prioritario e che vuol dire che poi nulla è prioritario invece prendendo spunto anche da questi studi no dire che la famiglia al primo posto le relazioni sono al primo posto significa che nella mia giornata nella settimana il resto ruota attorno a questo non è faccio le cose che devo fare e poi dopo se c'è tempo faccio anche questo è proprio invertire il concetto no e questa volta fa un po arrabbiare storcere il naso dire però io gli impegni che devo portare avanti certo certo tutti i miei impegni però un conto è essere dominati da queste cose un conto è sapere che fanno parte della quotidianità di ognuno di noi ma non ci dobbiamo servire a questo no se no diventano per utilizzare un linguaggio magari anche nostro degli idoli a cui andiamo dietro a cui ci asserviamo e perdiamo il contatto con quello che invece è la priorità e l'essenza è in questo caso come stiamo dicendo la relazione no anche nella spiritualità cristiana si dice che tutto ciò che noi possiamo vivere dipende dalla relazione primaria che quella che abbiamo con dio quindi anche in questo senso la relazione per prima poi dopo le altre cose non voglio dire che vengano da sé però sono un po figlie del fatto che nel momento in cui ecco se è vero che non possiamo avere più tempo però è vero che possiamo avere più energie da spendere il nostro tempo quando la nostra parte centrale non possiamo dire la nostra anima è nutrita di un'energia bella di un'energia piena che deriva dallo stare in relazione dal sapere di avere una vita che ha uno scopo di sapere che stiamo donando qualcosa beh allora ma è vero che il tempo rimane quello però energia da vendere da regalare allora a quel punto posso anche giocarmi in modo diverso anche nelle mie giornate anche in quella mezz'ora quarto d'ora ora che riesco a ricavarmi in mezzo a tutte quelle che sono le cose che sono urgenti ma magari che sono meno importanti senti morizio noi alla fine ci lasciamo sempre con una pillola di concretezza da parte tua quindi da che parte possiamo cominciare ad assumerci la responsabilità della nostra felicità ma guarda io prenderei spunto appunto visto che è stato un po' l'argomento che abbiamo toccato oggi no quello delle zone blu se gli elementi sono l'importanza della famiglia dello spendersi per gli altri l'alimentazione il movimento ok in usare sostanze come il tabacco ok l'esercizio potrebbe essere provare a prendere ognuna di queste aree e provare nel corso del di questo periodo da qui la prossima puntata di fare una cosa infinitesimi infiniti piccolissima una cosa piccolissima che ci aiuti a migliorare in quello che può essere fumare una sigaretta in meno al giorno per chi fuma oppure può essere il fare quella telefonata da quel familiare o chiedersi qual è una cosa piccola che posso fare per essere di aiuto anche solo al mio vicino di casa migliorare di un filino la mia alimentazione non so magari iniziare a mettere meno zucchero nel caffè oppure il movimento non può essere fare cinque minuti di passeggiata mentre invece non faccio neanche quei cinque quindi proprio piccoli passi il cambiamento spesso è come l'aurora no quindi qualcosa che arriva lentamente non è da oggi al domani che ci sono anche i cambiamenti come dire sulla via di damasco no però tendenzialmente la maggior parte dei cambiamenti sono lenti all'inizio sembra che non succeda niente ma in realtà sta succedendo qualcosa dentro di noi bene grazie maurizio allora buon lavoro a tutti noi direi e ci vediamo tra un mese prima di natale alla prossima